Allora, signori, oddio, anche registriamo un mostro piccoletto, chiudiamo tutto, torniamo e il giorno dopo facciamo magari un'altra ripresa. Certo, non dico proprio di una foto e via, scappiamo. Yes! Oh, c'è una botola. Moriamo sicuro. Aiuto. Non ci devo riandare. Ragazzi, volete qualcosa? Ragazzi, sono stato io. Oh, io frà, c'è due ore vanno a bruseto. Ciao, mostriciattolo! C'è un mostro... Mi piacerebbe riprendere... C'è un brutto signore. Mi piacerebbe riprendere la camera. Puoi lanciare la... Ci sto provando, non ci capisco niente. Dov'è? Devi tenere premuto Q. Ok, no, no, sto... Vedo, vedo, vedo la testa lì. Lo sto riprendendo, eccolo! Ma perché mi avete salvato per farlo? Ah, ma eccolo qua! Uh, che paura! Ho avuto molta paura, però ho ripreso qualche mostriciattolo. Ora aspettiamo i miei compagni. Che comunque non si stanno muovendo, quindi potrebbero essere... Morti entrambi. Amici! Ho voluto la conferma della morte perché almeno scappavo. Vi vedevo che non eravate praticamente più lì, quindi ha detto... Sai che c'è? Sì, però allora... No, devi fare così. Allora, di là... Ok, aiuto! Ah, è preso! Salvatemi! No! Ok! Vai! Dai! Andiamo! Almeno qualcosa abbiamo ripreso stavolta, dai! Anche registriamo un mostro piccoletto, chiudiamo tutto, torniamo e il giorno dopo facciamo un'altra, magari un'altra ripresa. Ok, proprio. Certo, non dico proprio il... Io entro qua sulla sin... Ragazzi, questo posto è bellissimo, sembra un bar abbandonato. Ma provo a buttarmi? O moriamo? Moriamo, sicuro. Aiuto. Devo riprendermi dalla tocca, dove è? Ragazzi, volete qualcosa? Ragazzi, sono il sucio! Lanciatemi qualcosa! Ciao, mostriciattolo! Devi tenere premuto Q. Ok, no, no. Ragazzo, vedo... Ok. Ma ho avuto molta paura, però ho ripreso qualche mostriciattolo, ora aspettiamo i miei... Ok, niente! Si è chiuso così! Allora, io lo salvo sul desktop. Oh, mica male! Allora, abbiamo ancora due giorni, eh! Let's go, Ski! Funziona ancora il bug qua? Sì, ragazzi! Guardate un attimo! Cosa? No, fantastico! Buona... Ah, dai! Bello, mi chiamo! Ma come cacchio dormite? Sì, infatti ho preso il mostro, ho riportato... A parte che... Adesso torno dentro, vedo se sono morti e stanno ancora in giro. Ho beccato due mostri cattivissimi. Volevo riprenderli, ma... Tu sai, è meglio andare via. No, ma si è cagato sotto in cagetta, eh! Ah, quindi, dato che abbiamo fatto un po' di viso, abbiamo la stanza nuova. Sì, stiamo insieme a questa seconda giornata di spedizione a caccia di mostri. Slav Squad! Ciao ragazzi! Grande! Oddio, mi perdi comando in New York, faccio schifo. Scale? Scale? Ah, interessante. Oh! Ti sento suoni brutti, secondo me c'è qualcuno su queste scale? Sicuramente! Oh, che cacchio era! Ok, 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 ok. Ma io la torcia poi. Ho ripreso benissimo mentre ti ammichiamo i kivis. Ok, mi sono fatto picchiare a poco. Però tu sei ancora vivo. Ah, ma tu sei qua? Tu sei Luca? Sì, 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 sono ancora vivo. Ah, ok! Io sono Luca, sì. Ah, eccolo va! L'uomo l'umata? Vabbè! Eh, sì, eh, beh, ciao. Eh, io prendo l'altra scala. Quanto, quanto va di reddito lei? Quanto paga l'affitto, eh? Lei con un... Ma oddio c'è un'altra roba, c'è un'altra cosa! Mi sta inseguendo ed è molto più cattivo. Eccolo! Mi piacerebbe salire nella mia navicella, suono? Eh, se vieni sì, dai. No, è veramente un parkour. No, no, no! Esci! Vigile rientra, scusa, rientra! È dentro? Entra, come si entra! Yeee! Slav Squat? Ok, si riemerge, ragazzi. Pronti ad andare a casa? Portiamoli a casa, questi bravi ragazzi. Dove sta la montagna qua? Ah, dai! Da qua sopra, grande! La tua vita è preziosa, non gettarla! Eh, con... Q? Eh, ti sei infilato tu! È veloce a fare il video questo qua? Accidenti, lo estraigo un attimo. Che hanno un USB 5. Ed è posto nella nostra... Videoteca personale qua? Oggi io mi... Cheese... Yeee! ...questa giornata di spedizione a caccia di mostri. Slav Squat! Ciao ragazzi! Oh, che cacchio era? Eh, vi sta seguendo comunque. Oh, ok, 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 ok. Eh, sì, eh, beh, ciao. Eh, io prendo l'altra scala. Guarda, guarda, guarda come arrivano. Mi scusi, posso chiederle quanto costa il suo outfit? Quanto va direi? Che paga l'outfit? Lei con un... Ma oddio, mi sta inseguendo ed è molto più cattivo. E il suo outfit quanto costa? Mi piacerebbe salire nella mia navicella, si può? Eh, se vieni sì, dai. Se vieni sì, dai. No, veramente, c'è il parkour. No, vieni vai! No, no, esci! Cioè, rientra, scusa, rientra! È dentro? Ok, per cambiare, sì. Ragazzi, eccoci. Ma, 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 sopravvissuti. Ciao! Giusto, no? Ciao, ciao! Che succede qua? Che paura! Oddio, si sta rampicando! Si sta rampicando! Cosa vorrà mai fare? Oddio! Oddio! Faccio trekking, Dio. Oddio, lo sento, lo sento, piano, ma lo sento anche da qua. Cosa starà facendo? Oddio, oddio, non lanciarti, no? No! È anche cliffhanger! E allora, ragazzi, oggi vlog con Andre Link, andiamo a schiacciare un po' di mostri e... Boh, ciao! I droni! I droni! In un mask! Che porta al pacco! Ma che paura! Ma no, volevo fare il... C'è, stop l'opening! Ho fatto il video, comunque. Oh, oh, che bello! Si sta abbracciando. Vieni qua. Vuoi ne abbracci anche tu? Sì. Sarò lo del pelle a braccio. E qua c'è la torcia in più che possiamo... Quindi io adesso tiro fuori il microfono e mi metto vicino ad Andre per... Ah, che cazzo è successo! Luca, tutto buggato! Ma come stai messo? Ma come stai messo quel braccio? No, non lo so cosa è successo. Allora, basta registrare che sennò mi fisco la telecamera. Ho fatto un po' di riprese strane. Non so se ai mostri potrebbe far piacere il pisnello, ma... Non lo so, tranquilli. Il microfono mi metto il cerco vicino ad Andre. Così dovremmo registrare il mio. No? Sì, 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 sì. Dovrei registrare. Madonna, che passi pesanti! È il microfono? Sì. È il microfono... Oh! Oddio! Oh cazzarola! Niente mi ha preso, mi ha preso Salvatemi la tazza, scusate la camera Mamma mia! Mi ha preso anche bene Ok Cazzo Eh Ho ripreso la camera Oddio Ho ripreso il mostro Sta arrivando, sta arrivando Ok, scappiamo Sì Luca stava venendo brutalmente Falciato dal mostro Ma ha provato a riprendere Ma era tutto buio Ho solo visto lui che volava Verso il pod Ho detto vabbè, ciao Ho delle belle però riprese di Luca Che si baggava tutto però Quelle l'ho Allora, ti sto riprendendo Perché ho un bel po' di batteria Però Allora, se vuoi buttarti ci sei già Vai, vai Vai, vai Vai No Vediamo come va oggi poi Decidiamo se vale la pena Mi metto sulla sedia io adesso Ok Vediamo I droni I droni Ti porto al pacco Ma no Vuoi un abbraccio anche tu? Sì 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 Sì, vicino alle persone Per parlare Ma come stai? Non lo so Oddio Riprendi, riprendi almeno Riprendi, riprendi Sì, sto provando Riprendi, riprendi Riprendi Subito riprendere Sennò fai come me Che ti perdi Il momento della caduta Io non sentivo più assolutamente niente Vai, vai Non ho più il foglio Per fare gli abbracci Il secondo giorno È stato fantastico Perché abbiamo ripreso Un sacco di mostri Quindi Anche era lo stesso mostro Però almeno Era qualcosa di E poi Ci hanno fatto i commenti Nel terzo giorno Per l'audio professionale Con il microfono Ma aspetta L'hai presa? E di sta per terra Yes Sì, prendi la torta Prendi la torta Eccine Nello No Dove avete fatto? La vuoi una cadrega? Perché l'ha presa? La dove ne avete presa sta? Per terra Per terra Non si poteva fare UPA Ehi Hello mostri Ci siete già? Eccolo qua uno Va Ello va Sì, sì Vuoi dargli strato un po'? Vediamo se riesco a riprenderlo Quando attacco Ti faccio inseguire io Ma è un mixer praticamente Ma se Ma cos'è? Ha fatto un verso scabroso Ed è scappato S Sono solo io Solo io vedo dei glitch No, li vedo anch'io Ho sentito anche Un suono È qua, è qua, è qua davanti Qua, qua, qua Sono brutto Oddio che brutti glitch Sei vivo? Sì Allora, io Aspetta un attimo Voglio registrare questo osso Ok, grande Perché è molto fashion Ok Ah, Luca, sì Luca è andato Non si muove più Quindi è andato Registriamo il grave tuffo del mocha Allora Ti faccio la battuta Poi parti, eh Questo È il grave tuffo Del mocha Devo capire adesso Come è andata? Come è andata? Come è andata? Non ho idea di cosa si sia visto Sai che sei veramente da Londra? Sì, 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 sì Non posso ridere il primo commento Sul primo video Guarda che belle mele No Sono più belle quelle che ho sul sedere Va bene Ci sono Ok, ti aspettiamo Cosa devo prendere? Una torcia? Sì, sì, prendi la torcia Prendi la torcia Ecchi me Nen No Cosa ti ho fatto? Ma non è attaccato Niente, non si poteva fare Uppi, uppi E allora mostri Ci siete già? Eccolo qua uno, va E allora Guarda Don Feli Mi faccio inseguire io Ma è un mixer praticamente Sì Ah 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 Sono ancora vivo Ho un PS tipo Ma sono vivo Selfie Vai qua, qua davanti Qua, 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 qua Ok, grande Perché è molto fashion Ok Allora Ho finito la stamina Ma questo non mi fermerà Siamo quasi alla vetta Sto per cadere No, no, no Non volevo cadere adesso Ma come tu fai del pazzesco? Come è andata? Come tu fai? Non ho idea di che cosa si sia visto Sai che sei veramente bello, Andre? Siete stupendi Cioè questo è un movimento veramente stupendo Yeeeh 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 Va bene Il segnale in mors Per sì Eh no perché È 1038 abbiamo fatto E abbiamo fatto un K Però poi non è salito sopra il K Quindi secondo me dobbiamo fare Per tutti e tre i giorni un K Volevi dire qualcosa prima di cominciare? Io ho capito che sono bravo a fare l'esca Ok Nooo Aspetta adesso la lancio anch'io Vuoi lanciare l'edito su? Vai vai prendi No vai vai Eh 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 Ci siamo boys Yes Siamo pronti Let's go Mamma mia Ci sarà qualcuno? Cosa c'è là sotto? Niente per il momento Siamo primo piano Adesso l'ho sentito Ah è lì Ehi salve lei Per caso Scappa scappa Blandetelo Scappandole scappandole Sto provando Ok ok Eccolo Ho ripreso L'ho ripreso Però ho una bella ripresa del mostro Che ti sbrana Filiz Ma hai ancora web Hai ancora camera Sì Infatti sto riprendendo un pochettino Allora Aspetta Oggi facciamo merenda Aspetta Vai ci picchiamo Dove sono le mele? No dove sono le mele? Non ci sono più mele Eccoli qui abbiamo dei cappelli fashion Tipo questo qui Mi piacerebbe comprarlo Ma non so come si fa Vai Luca Buttati che morbido Morbidissimo Guarda sono ancora in piedi Che bello Oh ma Si ha fatto il flitto Io ho capito Che sono un bravo affare Che riesca No Aspetta adesso la lancio Però devo mettere via la torcia Abbiamo 156 E via Anzi provo a lanciartela proprio in camera Aspetta facciamo un test Mamma mia Di qua Sento un suono Brondo Cosa c'è qua? Adesso l'ho sentito Ah è lì Ehi per caso Ah Te lo Scappandole scappandole Hai ancora la camera A tempo? Allora Aspetta Eccoli qui abbiamo dei cappelli fashion Tipo questo qui mi piacerebbe comprarlo Ma non so come si fa Questo ok Questo pure questo Finto l'ultima Ecco ci sono i miei amici Che si vogliono buttare in allegria Vai Luca buttati Che morbido Morbidissimo Guarda sono ancora in piedi Che bello Oh ma Siamo di aver fatto queste Mille visualizzazioni anche oggi Aspetta vediamo Teccato È comoda Io ho già messo un microfono Da reporter Perché il microfono boom È quello lungo lì Ma volevo provare La radio Bello Ha qualcosa da dichiarare Signor Philis? Mi piace Molto Desmume Anche a me grazie Non so che camera Vai Sei pronto? Sì Salve Siamo qui con Philis MC detto anche E con il signor Luca Friends are my power E qualcosa da dichiarare? No Però oggi spero di intervistare Tanti mo' Possiamo andare direi Anche perché ho usato Metà dei fi Del No Bellissimo Siamo 58% Chack Jack si gira Vado con Jack Io vado con Jack Appena vediamo un mostro Io vado con Jack E' subito Ok Io non ho la torcia eh Quindi Vuoi la mia? Oddio che paura No io tengo il chat Il microfono è fortissimo Cos'è questo? Ah è una colonna Ma serve più con la torcia Serve dai Eh io sento cose molto brutte E io qua l'ultima volta ci sono morto Ti faccio luce nel caso ci fosse un mostro in scattolo Ma non c'è Oh mio Dio mi sei passato davanti con la scatola E ho visto la cosa invisibile attraversarmi Vabbè Boh Non c'è Sì 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 Io vorrei ritornare indietro perché non mi piace per niente questo posto Sento che strisce Sento suoni Però ci sono anche delle vie di mezzo eh Non è che devono essere occhini di mostri o senza Oh L'incastanza illuminata Fissate cosa c'è qua dietro Oh l'ha sentito L'ho sentito Questo era molto vicino Secondo me è di qua È qua a destra Si può saltare questo? Sì Oddio è qua è qua è qua Io l'ho lanciato No come? Aiuto 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 Vieni salto indietro esalto indietro No 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 Oddio è esploso È esploso? È esploso lasciami allora Lascia mi mostro della morsa È che cavolo Eh però se ti metti davanti Vieni qua salta 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 Niente riesco a liberarmi Non capisco dove cavolo sto Eh vabbè buonanotte Ah no No Non si vede proprio No 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 non abbiamo un tempo Non abbiamo un tempo Dobbiamo tornare a prendere l'ossigeno sono crepi Dai torniamo subito 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 Oddio Oddio Ragazzi scappate ragazzi vi prego scappate Si è disconnesso tutto Si è disconnesso Forse mi è saltata la linea non lo so E' stato un attimo A parte siete morti tutte e due vero? Un'altra 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 Un'altra